salve salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video qua è iscriviparla e oggi ci chiamo a scrivere per notte terreremo rotto il cazzo per ora allora e... iniziamo comincia con nonno edgar e nonna julie uh li voglio anch'io i nonni, che belli nonno edgar era stato il migliore avventuriero del pianeta nonna julie non era d'accordo anche lei era un'avventuriera ma dove scappa? a edgar succedeva spesso di giungere in luoghi rimasti nascosti e mangia e scoprire che julie era già lì a parte una spontanea e la loro rivalità continua per molte altre avventure il mondo è un'amai che ha iniziato di lungo in una di queste giuri arrivò prima di età in cima a una pianta ma il tesoro era un ameno di fidanzamento aditare i giuri decisero di fondare un'amai che ha iniziatire dei figli e raccomare una talmente donna da farne qua anche lui eh madonna quanto trombate eh calmi il primo era un globo magico che consente di andare lungo nel mondo ma non finiamo mai il secondo era un fantastico tocco su cui era sufficiente scrivere qualsiasi cosa per farlo apparire un destino al contrario bellissimo un destino al contrario perfetto i robot ovunque e no, non la fara che ce l'ho no, non la fara che ce l'ho è no mi vuole giustare game play Perfetto, si gioca Come? No, ok, adesso si può ancora giocare Decide ancora lui cosa fare Clicchiamo Edwin Guadagna uno starite aiutando Edwin con il suo pluripremiato maiale Sono il piccolo della cucciolata in un maiale pluripremiato Scrivi un oggetto per aiutare Maxiola a pulire il maiale Cosa per pulire il maiale Ma direi Vabbè dai Spazzola Toa Maxwell 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 Ma sei un idiota se Ma piglio io, ma piglio Ah Ah ma io sono Maxwell Lì che la guardia è avanzante per il suggerimento corrente Gameplay Diminare l'opinito, rendere più grande con un aggettivo Aggiungi aggettivo Mastodontico Ma che bello Gli ali per volare, che è? Che oggetto? Ali Piccole Piccoline Ah lo crea Ali enormi Perfetto Ali enormi Vai Ali enorme Vai Sì fammi Te Io vorrei che Eh ma Cazzola Degli hippie Ah Ok Bla 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 Brack sabes Oh Guarda che non ci sta Guardate che non ci stava La felicità di una persona Vinceremo un premio più un maiale Recia Recieremo a abbandonare Ok Raccogliamo Raccogliamo tutto Star height Starite Star height Che cazzo è star height Uno Ok grazie Emo Vediamo star height Ok E' come si deve crescere Ok Ok E' come si deve crescere Creiamo Fertilizzante No No Ma che ci vuole dell'acqua Cioè se veramente così mi incazzo Perché non è possibile Ah Irrigatore Vai No Eh madonna Il messo per accedere al menu Che ti successe? Invitiamola? Che vuole? La mia gattina è bloccata su un albero, salvala Scala Da appoggiare Sì ma Ah Usa blocco a punti Aggiungi oggettivo Volante Sono un genio Ce l'ho io la toga Ce l'ho io la toga Ce l'ho io Ce l'ho io Consegna Demoni di gatto in mano Mi cino e torno a casa Yeee Andiamo Livello completato Niente ragazzi Con questo possiamo salutarci Non c'è stato tanto gameplay oggi ma Era Sei zittuta Era l'inizio di Appunto Scribblenauts E niente dai ci vediamo ad un prossimo video Ciao belli 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 Ciao belli